Salve amici del Fensitalia, in questo video andremo a vedere la prova comprensione della lettura dell'esame Celi Impatto, il livello A1. È un esame molto breve, è 1 ora e 15 minuti, ma considerate che qui c'è anche la produzione dei testi scritti, quindi non sono solo due esercizi da completare. E poi avete produzione dei testi scritti, quindi dovete completare questa parte e questa parte. Quindi non bisogna scrivere qui, bisogna semplicemente dire sì o no e scegliere la lettera perché è il livello base dell'italiano, quindi non si aspettano grandi conoscenze linguistiche e lessicali. Quindi come procedere? Qui avete questo testo, dovete dire sì se l'informazione è nel testo, no se l'informazione non è nel testo. Abbiamo questo testo qui, io vi consiglio di leggere la prima frase, primo paragrafo, seconda frase e così via. È possibile comprare la carta telefonica solo negli uffici postali. Poste italiane, offre il nuovo servizio di carta telefonica ricaricabile, con questa carta puoi telefonare sia in Italia che all'estero. Poste italiane ti fa risparmiare, finora non ci dice dove possiamo comprarla. Puoi comprare la carta telefonica in tutti gli uffici postali oppure online. Non è solo negli uffici postali perché si può fare anche online, quindi la prima è no. Vediamo la 2. Per ricaricare la carta devi avere un conto corrente con poste italiane. Tutti uffici postali online. È possibile ricaricare la carta in uffici postali o anche online. Non serve avere un conto con poste italiane. No, non serve il conto. Ci dice non serve, quindi non bisogna averlo. Puoi telefonare in un paese straniero con il telefono cellulare. Puoi usare la carta telefonica dal telefono di casa tua o dal telefono cellulare. Puoi parlare con i numeri di cellulare. Per parlare con i numeri di cellulare paghi solo 2 centesimi al minuto. Per parlare con i numeri di telefono fisso del tuo paese paghi solo 5 centesimi al minuto. Allora, puoi telefonare in un paese straniero con il telefono cellulare? Sì, puoi telefonare sia in Italia che all'estero. Quindi è vero che lo puoi fare. Con 5 centesimi al minuto puoi chiamare i telefoni cellulare nel tuo paese. No, 5 centesimi sono i numeri di telefono fisso. Quindi i telefoni che avete a casa, quelli grandi. 5 centesimi al minuto. Se chiamate i numeri di cellulare sono 2 centesimi, non 5 centesimi. Quindi è no questa opzione. Qui dobbiamo guardare le immagini, leggere la frase e l'azione che si descrive qui, in questa frase, è stata anche dipinta. Però solo uno dei disegni dimostra l'azione che ci spiega questa frase. Quindi il bambino mangia il pollo con le mani e questo qua B, il bambino che sta mangiando il pollo con le mani. Questo qua sta mangiando gli spaghetti con le mani. Scrivere i dati personali sul modulo. Ovviamente la A perché abbiamo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, città e telefono. Sono dati personali questi. Qui invece c'è una ragazza che sta scrivendo semplicemente Bla sulla lavagna, forse a scuola. Prendere il biglietto ed aspettare. La A perché vediamo che tutti hanno il biglietto in mano e aspettano il loro numero che appaia qui. Qui invece il signore è già in biglietteria, sta comprando, non sta aspettando. Pronto? Sono alla stazione. Ti aspetto. Dovrebbe essere la B. Perché? Perché qui vediamo il treno, qui vediamo l'aereo. Quindi questa signora si trova in aeroporto, questa si trova alla stazione ferroviaria. Per Laura vado a prendere i bambini a scuola. Sì, lui sta andando a prendere i bambini a scuola. Vediamo la scuola, si trova davanti alla scuola. Questo invece sta uscendo di casa, quindi forse sta portando il bambino con sé per mandarlo a scuola o all'asilo. E questo bambino è troppo piccolo per andare a scuola, forse va all'asilo, non va a scuola. L'ufficio postale è aperto tutte le mattine. Ufficio postale dal lunedì al giovedì, il venerdì e sabato. Dal lunedì al giovedì è la mattina. Il venerdì non è la mattina, è di pomeriggio. Qui invece vediamo il lunedì e il venerdì la mattina e il sabato la mattina. Quindi tutti i giorni la mattina è aperto nella seconda immagine. Nella prima immagine il venerdì non è aperto la mattina. Quindi per questo motivo diciamo di no. Prende solo banconote. Beh, vediamo una signora che in entrambi i casi ha una monetina in mano, ma nel primo caso si accettano le banconote e nel secondo caso invece si dice no alle monetine. Abbiamo il segno dell'euro, della monetina, con vietato. Quindi non si inseriscono le monetine. Lo spazio è troppo grande qui, bisogna inserire una banconota. Qui invece ci entra. Previsioni meteo, cielo nuvoloso al centro. No, qui è un signore che sta passeggiando e sta andando verso il centro, il centro della città. Qui invece previsioni meteo, quindi il tempo, come sarà il tempo domani, se ci sarà il sole o la pioggia. Nuvoloso al centro dell'Italia. Il centro è questo e vediamo le nuvole, quindi la B dovrebbe essere la risposta esatta. Buongiorno, mi puoi far vedere quella camicia? Allora, vediamo una persona in un negozio di abbigliamento. In entrambi i casi lui esce comprando qualcosa. Nel primo caso ha comprato una camicia, nel secondo caso un maglione. Quindi, mi puoi far vedere la camicia e il numero 12, perché poi esce con la camicia dal negozio. O magari, no, questo forse è un... Non è il signore. Qui sta indicando forse la camicia che vuole comprare. Sta facendo segno della camicia che vuole vedere. Qui invece sta facendo segno al maglione, quindi la A dovrebbe essere la camicia. Abbiamo risposto a tutto, ma io vi faccio comunque vedere anche le risposte. Sono A1 e A2, queste qui. Dovrei aver risposto in modo corretto, però comunque potete dare un'altra occhiata se non vi sentite sicuri. Io comunque vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!